Buongiorno e buon caffè. Bello il mio quartiere, adesso soprattutto che è sbocciata l'estate ed è così bello stare fuori. Il posizionamento è un concetto di marketing che precisa come il consumatore vede un determinato prodotto, anzi meglio, un determinato brand. Si parla anche di brand awareness. Vale a dire che cosa avviene in mente, cosa avviene in testa alla persona quando sente nominare un certo prodotto, un certo marchio, una certa marca, appunto, un brand. Ecco, io penso che oggi la famiglia abbia un cattivo posizionamento. Che cosa avviene in mente alla gente quando si parla di famiglia? A che cosa pensano? Sicuramente non a quello che ha in mente molte delle persone che ascolta questo caffè. Credo allora che dobbiamo fare un grande lavoro di rebranding, di riposizionamento, cioè aiutare le persone a capire che cos'è realmente la famiglia, che non è quella roba che loro pensano che produce femminicidi, che produce omicidi, che produce cattiverie, che produce infelicità, che produce una gabbia dalla quale è bene fuggire. Ci siamo fatti scippare il concetto di famiglia, ci siamo fatti scippare il senso di alcune parole. Io penso che dobbiamo ripartire da qui, ridare la gioia a questo termine, ridare la gioia al contenuto, ridare la gioia alla famiglia. Ok, certo, bello, un bel concetto, siamo tutti d'accordo, ma come si fa? Non so come possiamo fare, so che possiamo cominciare a raccontare la bellezza, perdere un po' di quel pudore che in realtà alla fine è fuga, è fuga dalle proprie responsabilità, è scappare a quello che bisognerebbe fare. Perché non è questione di modestia, è questione di mancanza di voglia, diciamocelo forte e chiaro. Perché raccontare la bellezza della famiglia, raccontarne la gioia, vuol dire viverla, vuol dire impegnarsi, vuol dire far sì che questa roba qui diventi vera, diventi carne e sangue, diventi la mia vita di tutti i giorni. Ci vogliamo provare? Avete dei suggerimenti? Sono prontissimo ad accoglierli. Buona giornata e buon caffè. Come vedete neanche questa volta sono caduto.